Si tratta sicuramente di ladri professionisti, esperti e ben preparati sui sistemi antifurto, quelli che si sono introdotti nella tarda serata di ieri, dopo le 22, nello studio fotografico Leon a Pesaro, in località chiusa di Ginestreto. I malviventi si sono introdotti nei locali passando da un lucernaio, posto a diversi metri d'altezza, ed una volta all'interno hanno disattivato il sistema di videosorveglianza, asportato l'hard disk di memoria, ma anche neutralizzato il router collegato per eventuali trasmissioni di dati all'esterno, apparato che era occultato in una zona ben protetta, ma che è stato comunque localizzato e asportato dai banditi. Una modalità molto sofisticata che fa quindi supporre una notevole conoscenza della banda dei sistemi di controllo e videosorveglianza più moderni. Il bottino ammonta a 35.000 euro fatto di materiale fotografico e che non ha risparmiato nemmeno il mezzo dell'azienda, un furgone parcheggiato all'esterno, del quale i ladri hanno rinvenuto le chiavi e col quale si sono allontanati dal luogo del furto e imboccato l'autostrada, come tracciato dalle telecamere, attorno alle 23.15, subito dopo aver commesso il furto. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri della Compagnia di Pesaro.